grazie signore prego consigliere dove è? legistrazione avviata grazie a tutti ecco qua allora consigliere di tavaliere segretario chiami l'appello buongiorno seduta di consiglio del 7-6-2021 ore 9.38 Teresi presente Aiello presente alta donna presente tavaliere presente di Gesù presente Tivuccia presente Lo Sardo presente Lucido presente Palazzo presente Stabile presente Presidente a 10 presenti 10 presenti nessun assente la seduta è il numero legale di che ora aperta la seduta nel fare i complimenti alla consigliere cavaliere per la bella voce stamattina una bellissima voce squillante consigliere cavaliere così come abbiamo anticipato la scorsa settimana sia oggi che domani apriremo il consiglio e lo chiuderemo perché abbiamo tutti appuntamento a Largo Pozzillo per i lavori di sistemazione dei locali quindi vi invito tutti i consiglieri a Largo Pozzillo a lavorare per la sistemazione dei locali la seduta è chiusa ci vediamo a Largo Pozzillo arrivederci grazie signora Cannizzaro buon lavoro arrivederci 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 sta arrivando